Buongiorno, sono Marcello Runelli vicepresidente delle cantine Ferrari. Con molto piacere vi presentiamo oggi le tre etichette di Ferrari Trento Dock, bollicine di montagna scelte da Maynard. La prima un Maximo Blanc de Blanc, uno Chardonnay in purezza non millesimato e dedicato all'alta ristorazione al Canale Oreca. Un Perlet 013, un non dosato, tirage 2013, nella cui cuve ci sono cinque annate diverse dal 2007 fino al 2011 e il vino è cresciuto in tre contenitori diversi, legno, acciaglio e legno. Terminiamo con il Perlet Roset Trento Dock 2015 Riserva, una Puvè di Pinot Nero e Chardonnay che dal 1993, prima nata di presentazione, rappresenta la finenza, l'eleganza ma soprattutto un Roset tipico di questo territorio.